ciao ragazzi ci ritroviamo anche oggi se hai a posto le gambe e la giornata perfetta per fare gambe e glutei quindi parola di coach e segui bene questo riscaldamento e ci vediamo alla forza ciao ciao siamo arrivati alla forza allora vediamo se mi ricordo io faccio questo lavoro da circa 15 18 20 troppo troppo e conosco due tre pochissimi esercizi che fanno e sviluppano bene il lavoro delle gambe e dei glutei quindi bilanciere sulle spalle che ci vediamo al workout per qualsiasi domanda scrivi sotto se ti stai chiedendo perché due soli esercizi con soli tre giri allora questa è la domanda giusta ma non farti ingannare uno di questi due esercizi di una difficoltà medio avanzata se non avanzata dove ci sarò io nel video ti farò vedere l'esercizio completo poi miei allievi ti faranno vedere qualche variante quindi magari prova di imparare anche tu per il resto se hai qualche domanda come sempre mi scrivi sotto anche per oggi ti dico allenati bene ciao 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 ciao